questo si per far esplodere questa anguria useremo questi questi, questi e questi alleluia sono una gallina, sto cagando, sto cagando, sto covando l'uomo tre papà diano a tutti ragazzi bentornati in un nuovo video dopo due mesi che non registravo facendo una yugana bentornati soprattutto con il mio cugino che non si fa vivo dal secondo video che abbiamo fatto ossia la second carry challenge siamo qui in california per far esplodere Rossana la nostra bellissima amica che sta per morire la faremo esplodere con questi fantastici elastici questo è un pacco d'acento e ne abbiamo quattro con questi aspetta no prova tu poi le vado a riprendere e niente iniziamo questo video cercando di far esplodere Rossana poi a 30 sì 30.000 magari a 30 like proveremo a far esplodere un'altra cosa che non vi dico che cosa sarà bello apriamo le borse si staccano in una faccia non so ma l'avevo tanto grigia questa roba cazzo non so come sia possibile cazzo non so come sia possibile che cazzo non ci siamo coglioni volevo ricordare che abbiamo quasi 30 anni esatto io ho metto esatto a provare fate il mio bus non avalto a 30 a 30 è la mia pressione h ahahah Paterina Eh ma non sappiamo quanti gli abbiamo messo Dai mi vado a far parlare a lei Fate finta che ne ho messo cinquanta BOOM Ehi muozo se schiaccio come il re Giorgio Ehi ma va a far culo Io spero che prima avvisi Beh urla rossa quando ti apre il proletto Si apre la bocca Mi sono soccato addosso Se mi spavano in faccia So cazzi cacacare Cacacare Poi lo so sigaretta E' bandata Rossano dai pensaci un po' tu Con gli elastici stai per fare BOOM La testa esploderà verso sinistra Verso destra E' più E' più o verso la telecamera? fatecelo sapere in un commento riceverete 10 euro omaggio da mio cugino ti siamo dimenticati di dire che a questo video estivo strano io d'inverno esco così take 2 Chuck azioni action a 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 se volete fare una se volete fare una anguglia di 8 kg con 500 l'astri ci sappiate che non ci riuscirete mai porco ops allora video deludendo che aspetta mi faccio un numero dovete a questo spacco sembra lo spacco del culo come di un culo noi siamo molto educati quindi devo sedere non cambia il il disagio mentale esatto come ho detto all'inizio 30 like per vedere il prossimo frutto ciao se esplode perchè questa stranza non esplode però dobbiamo considerare che questo era anche l'anguglia degli 8 kg e avevamo solo 500 l'astri esatto questi l'astri adesso verranno tagliati ma ci mangiano una cazzo di anguglia la cazzo di rossano esatto il prossimo frutto avrà un nome che se volete potrete scegliere voi da quello sotto i commenti non vi dico che cosa sarà mi voglio rovinare facciamo 2.500 2.500 like perchè essere? 2.500 like come dice isac che se vuoi rovinare lui mi voglio rovinare io mi mummifico vivo eh non vi dico come e non vi dico perchè non ho più voglia di vivere bello tre papadeo 500 lastici tutti tagliati raga e questo è quello che è rimasto dell'anguria guardate 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 questo è quanto rimane dell'anguria non so se si vede un cazzo aspetta che qua c'è quanto luce come faccio al sugo stasera esatto sembra uno spaghetti raga guardate sembra uno spaghetti buon appetito anguria tutta bella fibrosa aspetta se metto a fuoco eccolo ma che cazzo di video diteci nei commenti perchè cazzo non è esplosa l'anguria secondo voi ovviamente ciao belli ciao 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 ciao